Il parcheggio Baldaccio dal 1 ottobre torna a tutti gli effetti del Comune. Dopo anni di trattative è infatti arrivato finalmente l'accordo tra le parti con la definizione e la firma del passaggio. Al Comune andranno 802 posti auto ad alta rotazione, 58 dei box privati e una somma di denaro dai proprietari della struttura a saldo del rapporto economico intercorso nel tempo. È un bel serbatoio di auto, di parcheggio in quella posizione che è il naturale arrivo per chi viene dall'autostrada con un raccordo Arezzo-Battifolle ancora oggi a due corsie ma prevedibilmente migliorato in futuro. Adesso ovviamente l'amministrazione comunale inizierà a programmare il rilancio del parcheggio. Non è mai piaciuto perché non è forse mai stato correttamente gestito, usiamo questo termine, scarsamente illuminato, senza una guardiania continua, quindi un senso di insicurezza per chi ci andava a lasciare la macchina e usciva a piedi e poi il dover attraversare quel dedalo di strade che sta tra via Pia della Francesca, via Fraguittone, l'inizio di via Petrarca, quindi un po' una complicazione per i pedoni. Bene, tutto questo all'inizio di questo nostro percorso di valorizzazione del parcheggio Baldaccio verrà superato con un mezzo, probabilmente elettrico o a gas naturale, quindi comunque a bassa emissione, mezzo su gomma, non lo voglio chiamare navetta perché non va di moda ad Arezzo, comunque un collegamento fisso tra Baldaccio e perlomeno Piazza Guidomona. Diminuiranno invece progressivamente i posti auto in un altro parcheggio aretino, ossia quello della Cadorna. E quindi trasferimento sul Baldaccio dei posti auto che progressivamente ridurremo in quella zona. Nel giorno in cui ritorneremo in possesso del piccolo parcheggino chiamato Parcheggio della Misericordia, che è in gestione ad Arezzo Parcheggio, ma la cui gestione è già scaduta e quindi ne richiederemo quanto prima la restituzione, bene, quei circa 50 posti auto si perderanno perché demolendo per l'appunto il muro che separa il Parcheggio della Misericordia, via Garibaldi, rispetto al piazzale della Caserma Guidomona, si realizzerà un passaggio tra Piazza del Popolo e Piazza a Mintore Fanfani. Non ci fermeremo davanti a un'opera d'arte, anche se questa dovesse in parte essere demolita, l'importante è dare alla città una risposta in termini di fruibilità degli spazi.